Il 12 dicembre apremo un workshop estremamente interessante, lo chiamiamo Pre-Elite. Elite è il nome del percorso di formazione previsto dalla borsa italiana per le aziende che vogliono quotarsi in borsa. Che cosa abbiamo fatto come Skillab e come Intesa San Paolo Formazioni? Abbiamo creato un mini percorso per le PMI che vogliono aprirsi a questa nuova esperienza e quindi abbiamo, grazie a fondi dirigenti, creato proprio un'azione cosiddetta propedettica. Quindi far capire alle imprese come sia strategico seguire questo tipo di percorso, ma soprattutto anche far conoscere alle imprese le opportunità e che cosa vuol dire avere anche l'accesso alla finanza strategica, un tema per le imprese estremamente importante. Vi aspettiamo numerosi perché avremo un panel di relatori estremamente prestigiosi, avremo le testimonianze delle aziende che hanno partecipato, quindi gli imprenditori che erano nei nostri banchi per capire effettivamente quale potesse essere il valore strategico per loro. D'altra parte il nostro obiettivo da sempre come ente di formazione è proprio quello di creare valore. Quindi vi aspettiamo il 12, aprirà il lavoro fondi dirigenti perché è il nostro fondo di riferimento che ha potuto consentire la realizzazione di questa attività e ci saranno altri personaggi di grande prestigio di tutto il mondo dell'imprenditoria, della finanza e avremo in chiusura il presidente Boccia per chiudere i lavori con la sua grandissima capacità di comunicazione e di elaborazione di sintesi che faremo durante il nostro workshop.